Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Mono Sport 07 Siamo qui per recensire il Gran Premio svoltosi ieri ad Ascend per tutte e tre le categorie Perché sono riusciti in qualche modo, nonostante stavo lì a fare i riassunti per l'esame A seguirmi tutti e tre le gare, che sono state tutte e tre veramente belle gare Una bella giornata comunque per il motociclismo che ha visto comunque dei mondiali avvincenti combattuti Perché ieri in qualche modo ci sono riaperte tutte le situazioni possibili per quel che riguarda il campionato piloti Perché ragazzi in Moto3 comunque c'è un duello acerimo tra Garcia e Guevara Purtroppo fa male vedere in Moto3 solamente due che si condividono il mondiale Ma comunque in qualche modo ci accontentiamo visto che la lotta è in casa Ed è una lotta che in questo momento sembra guerrita In Moto2 si è visto veramente del meno motociclismo con Vietti che mantiene la vetta Seppure a pari punti con Augusto Fernandez sempre più in pala, sempre più in forma E anche una Yogura che è lì a meno uno, incredibilmente a meno uno ma è terzo in classifica Con due punti in più sarebbe primo In MotoGP abbiamo visto il mondiale clamorosamente riaprirsi con Bagnaia che recupera 25 punti Seppur ha in questo momento un distacco molto molto ampio 66 punti prima di questa gara, i punti erano 91 Pensate ragazzi, Bagnaia con 91 punti ora ne ha 66 e ancora in corso per il mondiale Glamorosamente però ragazzi di questo ne parleremo dopo ma io penso che da qui fino alla fine ci debbano essere altri due ritiri di Quartararo Comunque quantomeno non altri due ritiri ma altri due errori Oppure due gare no come America e Argentina dove Quartararo ha fatto ottavo e settimo Ci devono essere almeno altre due gare no e Bagnaia non si deve mai più ritirare Può avere qualche gara no e non si deve ritirare perché potenzialmente in pista Bagnaia è più forte di Quartararo Ci può stare davanti Le volte che non si è ritirato negli head to head Bagnaia incredibilmente è in vantaggio Perché in Argentina e in America gli è arrivato davanti In Portogallo gli è arrivato dietro In Spagna, in Italia gli è arrivato davanti Quindi quando entrambi sono in pista ragazzi Quartararo perde clamorosamente diciamo l'head to head con Bagnaia Essendo arrivato davanti a lui solamente una volta Non parla addirittura dall'inizio dell'anno quando Bagnaia non si ritira No due volte in Indonesia e in Portogallo Poi quelle due volte che ci è arrivato ci ha guadagnato circa 40 punti Mentre quando Bagnaia arriva davanti Quartararo e sono entrambi in pista Bagnaia praticamente ci ha recuperato 5 punti in Catalogna Perché lui ha fatto primo e Quartararo secondo No non in Catalogna, in Italia scusate 5 punti in Spagna Quinto, settimo ha recuperato praticamente 3 punti Quinto, ottavo ha recuperato 4 punti Quindi ragazzi stiamo a parlare che comunque nell'head to head Bagnaia è più forte di Quartararo Ma ha 3 cadute in più, 3 ritiri in più Che fanno sicuramente male Se vogliamo anche 4 ritiri in più Perché quel quindicesimo posto in Indonesia Veramente senza parole Tra l'altro con la pioggia dove comunque la Ducati poteva prevalere sulle altre Invece così non è stato Sia pioggia che asciutto Bagnaia è stato relegato per tutta la gara In quelle posizioni lì Ma detto questo iniziamo col parlare di Moto3 Vamo ragazzi 50 se non più Diciamo l'80% del video sarà di parlare di MotoGP Quindi sulla Moto3 non mi sofferverò molto Questo giovane Munoz mi sembra un giovane comunque molto promettente Vedendo la sua età, vedendo quel che combina eccetera eccetera Però ragazzi è un giovane comunque Forse non direi il Marquez del 2015 Però in versione Moto3 ragazzi Perché Moto3 e Moto2 Mark Marquez non era uno che faceva tanti danni E' arrivato in MotoGP che nel 2015 Quei fatti con Rossi era molto aggressivo E anche nei due anni successivi ha avuto una certa attestabilità Poi dal 2019 in poi diciamo che si è un po' calmato Però diciamo che non è stato nella norma da quel momento in poi Dal 2018, 2019, quegli anni lì ecco Guevara ha rischiato perché era primo al penultimo giro E all'ultimo giro si può superare da tre piloti Cioè era diventato da primo o quarto Come se non bastasse L'aveva superato pure Sasaki No, non Sasaki come si chiama l'altro L'altro giapponese Suzuki, scusate, quindi era quinto E poi cadono in tre si ritrova secondo Meno male per lui aggiungerei Perché l'ultimo giro sono caduti Masia, Munoz e McPhee Quindi diciamo per sua fortuna Una fortuna nella sfortuna, chiamatela come volete E' riuscito a fare secondo e a mantenere comunque un buon distacco Per quel che riguarda la leadership del mondiale Il team Gas Gas festeggia così un doppio podio Con Guevara alla fine secondo che riesce a prevalere su Garcia terzo Peccato per Foggia che poteva ampiamente giocarsela Perché sta andando costante Foggia Foggia nelle gare dove non si è ritirato I suoi giro risultati sono un settimo posto in Catania Un altro posto in Portogallo Il resto ha fatto una vittoria Tre podi con tre secondi posti Una quarta posizione e basta ragazzi Un diciottesimo in Spagna Ma lì sicuramente sarà accaduto E tre ritiri Quindi sicuramente con il fatto che ha tre ritiri Diciamo in più Di Garcia Guevara Dista veramente un distacco abistale in classifica 67 punti ragazzi Probabilmente se quelle tre gare le portava a termine Faceva anche un quarto posto per dire Sono 13 punti 13 per 3, 39 Sarebbe comunque distante una trentina di punti Ma comunque era lì in gara per giocarsela Stiamo parlando di tre ritiri in più Non di tre ritiri in totale Perché Foggia ha fatto tre ritiri in totale Ma anche una gara dove ha finito il diciottesimo Quindi dove probabilmente è caduto Quindi per errori suoi Per errori non meno Ma la cosa fondamentale che ti stavo dicendo prima È che per quanto riguarda Mugnoz Il contatto con Foggia L'ho reputo un contatto normale Vi dico la verità Io non credo che Mugnoz Deveva essere penalizzato Per un contatto del genere Certo è stato molto aggressivo Se lo fa 20 volte in una gara È anche colpa sua Però se parliamo singolarmente di quell'intervento Sono cose che capitano Foggia forse è anche un po' rischiato troppo E alla fine è caduto Peccato per lui Mi dispiace perché Era uno dei favoriti Per vincere questa Moto3 Ma la Moto3 Solitamente un pilota Non è molto costante E García e Guevara Invece stanno tenendo una costanza Che non tenevano l'anno scorso Neanche Pedro Acosta Cioè ragazzi Guevara ha fatto sei podi di fila García dall'inizio dell'anno Non è arrivato sul podio solamente per tre volte Questo vuol dire arrivarci otto volte su undici Che in Moto3 Se non è un record poco ci manca Cioè ragazzi In Moto3 se già domini in questo momento Io non lo so Se forse è il Team Gas Gas Che ha qualcosa in più Io non lo so Perché in Moto3 teoricamente le moto sono uguali Però Boh Non capisco Questo domino del Team Gas Gas Questa costanza che riescono ad avere Perché bene o male C'era pure Foggia quella costanza Ma Foggia ha fatto quattro podi Cioè ragazzi Guevara ne ha fatti sette Un podio nelle prime cinque gare Poi ne ha fatti sei di fila E Nelle ultime sei gare Tra l'altro su dodici podi disponibili Diciamo così per il Team Gas Gas Sono arrivati dieci podi Cioè le ultime sei gare È arrivato quattro volte su sei A podio García con una vittoria E sei volte su sei Guevara a podio con tre vittorie Quindi veramente È un dominio Incredibile E vedremo Se Foggia riuscirà a Ricuscire il distacco Ma la vedo veramente Veramente dura ragazzi Per quel che riguarda la Moto2 Sono a pari punti In questo momento Augusto Fernandez A Celestino Vietti Con Augusto Fernandez Il primo citato Che quindi si candida Prepotentemente Alla vittoria Perché ha fatto tre vittorie Nelle ultime cinque gare Nelle ultime cinque gare È arrivato quattro volte Su cinque a podio E tra l'altro Sta facendo veramente Un lavoro eccezionale E ha raggiunto Vietti A Vietti Pensano molto i ritiri Perché Vietti Non sembra Ma ha fatto tre ritiri Due di questi tre Sono arrivati in giornata in odio Dove era in lotta Per la decima Undicesima 12esima posizione O robe simili E si è ritirato lì Poi abbiamo visto che Vietti È uno che va molto molto forte Nella seconda parte di gara L'abbiamo visto ieri Che era partito decimo Dopo il primo giro Si è ritrovato quattordicesimo Poi è uscito di pista Lose Si sono ritirati un sacco di Si sono ritirati Schrotter Beaupier Canet Acosta non ha partecipato proprio Lose è andato a largo Il primo giro Quindi ha avuto meno rivali E in questo modo È riuscito ad arrivare quarto Anche facendo pochi siorpassi Durante la gara All'ultimo giro Dico la verità Vietti poteva combattersi Addirittura al secondo posto Perché non era distante da Augura Era comunque lì Ma non puoi fare un giro veloce All'ultimo giro E svegliarti lì Tra l'altro Tu ti fai solitamente le ossa Tra il Moto3 e il Moto2 In quello che si può definire Corpo a corpo Sorpassi Difenderti da un sorpasso E robe simili Poi fin quando non sei in sala La moto non puoi capire Cosa succede lì Dipende molto dal tuo stile di guida Dall'assetto Perché se tu hai un stile di guida Che tu dici Voglio dare tutto il rettilineo Poi nelle curve Me la vedo io come fare E un altro paio di maniche Tutto dipende dallo stile di guida Che vuole il pilota Quindi magari ora sto dicendo Anche robe a caso Perché non sappiamo Cosa accade dietro le quinte Dico solo che Rispetto ad Augusto Fernandez Ma Augusto Fernandez neanche tanto Ma soprattutto Rispetto a Ogura Che io credo sia Il rivale principale Di Celestino Soprattutto rispetto a Ogura Io credo che Vietti Debba migliorare Il confronto nel corpo a corpo Perché qui Ogura Lo fa veramente fuori E Vietti Che ha fatto clamorosamente Cinque podi Dall'inizio dell'anno Ma ha fatto solamente Un podio Nelle ultime sei gare Questo pesa ragazzi E non è una cosa bella L'ultime sei gare Vietti si è ritirato due volte In quei due ritiri Non andava neanche chissà quanto forte Altre tre gare È terminato fuori dal podio Quarto in Olanda Sesto in Spagna Ottavo In Francia Peraltro ritiro Nella madre terra In Italia Quindi sicuramente Sono punti persi Che fa male Però in questo momento È primo nel mondiale Con 146 punti Che in moto due Comunque una buona media Tre vittorie Però ha fatto un'ottima Prima parte di stagione E male la seconda parte di stagione È praticamente l'opposto Di quello che si vede in gara Dove fa male la prima parte E bene la seconda Ma deve imparare Ad andare bene Fin dall'inizio Perché se ti sbagli Gli ultimi giri E sei già nel lotto Per il podio Un conto Se ti sbagli Al penultimo giro Che sei a un secondo Dal terzo posto Come accaduto ieri E poi all'ultimo giro Gli sei lì addossato Solo all'ultima cura Puoi attaccarlo Solamente lì Infatti è arrivato quarto Per una cosa Come 16 millesimi Quindi si deve svegliare Un po' prima Comunque rimane un gran talento Perché sul passo È veramente forte Ma deve curare alcune cose Dove il MotoGP Possono servirgli Veramente veramente tanto Come sta facendo Infatti Un grandissimo Marco Bezzecchi Parlando di MotoGP Ragazzi Allora Quartararo è stato fortunato Perché quando è caduto Si è portato appresso Il suo primo rivale Nel mondiale Al tempo stesso Quartararo è stato sfortunato Perché quando se l'è portato via Aleish Spargaro non è caduto Ma è solamente andato largo Nella ghiaia E cose simili E poi è rientrato in pista Addirittura rimontato Fino alla quarta posizione Ma al tempo stesso È fortunato Perché se fosse rimasto in gara Al 80% Avrebbe vinto È stato al tempo stesso Fortunato Perché comunque Lì c'era una ghiaia Fosse stata una pista libera Sarebbero entrato in pista Più velocemente E al 90% Con la rimonta di ieri Sarebbe arrivato Fino al secondo posto Ragazzi Beh Al tempo stesso Lo spagnolo Che guida L'Aprilia Quindi moto italiana È stato sfortunato Perché nella giornata In cui Il suo grande amico Quartararo Fa un errore Nella stessa giornata Lui è costretto A un rimontone Proprio per colpa Della caduta Del francese È stato appunto Fortunato Perché è riuscito A rientrare in pista E quindi guadagnare 13 punti sul rivale Anche se quei 13 punti Potevano essere 20 Come potevano essere Addirittura 25 Poi magari Non succedeva niente Quartararo non lo prendeva Rimaneva primo E cadeva all'ultimo giro Non lo sapremo mai Ma indicativamente È stato sfortunato Almeno dal mio punto di vista Tralasciando Tralasciando Questi giochi di parole Ragazzi Possiamo parlare Penso finalmente Della gara Ed è bello vedere Una classifica comunque In qualche modo Accorciata Dove purtroppo Ragazzi C'è da dire Che Zacco Non ha guadagnato punti Però ragazzi È il primo errore Per Quartararo In questo mondiale Primo errore In 11 gare Nelle precedenti 10 Aveva sempre ottenuto Il massimo Non ha mai Cioè se voi vedete Le gare di Quartararo E vedete che è arrivato Secondo in Spagna Dietro a Bagnaia Capite che in quella gara Quartararo non poteva fare Altrimenti che arrivare secondo Perché Bagnaia ne aveva di più La Ducati ne aveva di più Di quella dell'Apriglia In quella gara lì E più di secondo Ne poteva fare Anzi Il risultato minimo Sarebbe stato un quarto Quinto posto Perché anche altri piloti Ne avevano Forse più di lui Con la moto che avevano Ma lui ha fatto la differenza Poi Sul fatto che Yamaha Ha fatto la moto Solo per Quartararo Tralasciando del Reminder Dovizioso e Morbidelli Poveri tonti E ci possiamo parlare Ore ed ore ragazzi Intanto sto sudando Come non mai Però ragazzi Quartararo Finora non ha fatto errori E diciamo che Noi Roragli Lo concediamo E ci può stare Poi certo Possiamo discutere Del fatto che Avrebbe 7 punti Di vantaggi in meno Su Aleix Aspargarò Che ora è a meno 21 La lotta mondiale Si è clamorosamente Riaperta Questo si Però ragazzi C'è da dire che Potevano essere meno Questi 21 punti Forse potevano essere Tipo addirittura Meno di 10 ragazzi Perché se Ieri Aspargarò Avesse vinto Avrebbe fatto 25 punti Quindi 12 in più Di quelli che ha fatto E quindi sarebbe A meno 9 ragazzi Che è comunque Un distacco Sicuramente Che può Riprenderselo Secondo me Aspargarò Fino alla fine dell'anno Con questa briglia Performante come ieri In Olanda Secondo me Bagnaia se l'è tenuto Lui ha anche Addirittura ha dichiarato Che aveva paura Di cadere ragazzi Quindi sicuramente Accentuato meno il passo Perché trovo impossibile Che abbia Due secondi e mezzo Su Aleccio Aspargarò Non se lo sarebbe permesso C'è da dire Che non è una situazione Carina quella di Bagnaia ragazzi Quella di aprire E vedere gente Che insulta E anche oggi Ti stendi Caduta di bagnaia Al primo giro Quotata a 1.01 E cose simili Non è una cosa carina Mettetevi anche Nei panni Nella testa di un pilota Non è assolutamente Una cosa carina Questa Però insomma In qualche modo Ieri è stato fortunato Perché si è permesso Di fare Quelle cose lì Di gestire una situazione Del genere Perché comunque La Isha Spargarò Non sarebbe mai arrivato A meno che Sarebbe arrivato lungo Al primo giro Senza la ghiaia Lì magari sì Anche se la vedo Comunque difficile Perché solitamente Uno come Vignales È molto molto bravo Nel corpo a corpo Quindi Avrebbe passato Vignales No aspetta Sto dicendo una cagata Perché Vignales È dell'Aprilia Quindi magari Loro poteva pure Riprendere Bagnaia Ora che ci penso Però ragazzi Ieri Bagnaia Evidentemente In qualche modo Si è stato informato Vedeva Lecce Spargarò Non avvicinarsi mai Almeno dagli specchietti È già tanto che vedeva Bezzecchi Quindi Perché il MotoGP Non è come Formula 1 Te ne accorgi Abbastanza di meno Quando ti sta seguendo Un pilota a lunga distanza Quindi a distanza Di 3-4 secondi E devi resti Girarti il rettilineo Ma non so Quanto a quei piloti Lì convenga Fare manovre del genere Detto questo Ragazzi Bene Bagnaia E senza accelerare troppo Sono 25 punti Che sicuramente Fanno morare Le ultime tre gare Che ha finito Le ha vinte tutte e tre Vediamo Mi dispiace sicuramente Per questi tre ritiri Dove se in Francia In Germania È la colpa sua In Catalogna Non è stata colpa sua In Portogallo Non è stata colpa sua Perché era infortunato Quindi se togliamo La sfortuna Bagnaia Avrebbe Secondo me 30 punti in più Se mettiamo Che fosse arrivato Secondo in Catalogna Poi magari Cadeva pure lì Non lo sapremo mai Se mettiamo Che arrivava secondo in Catalogna E in Portogallo Quelli che sono i risultati In questo momento Era meno 36 Poi ci ha messo del suo Con il ritiro in Qatar Con il quindicesimo posto In Indonesia Con il ritiro in Germania Con il ritiro in Francia Insomma ragazzi C'è da dire Tantissime cose Su tantissimi aspetti Però ragazzi Quartalaro La sfortuna che ha avuto È stata in tre gare Catara Argentina E in America Nell'avere una moto Non molto performante E in Francia Diciamo così Per non avere una moto Che riuscisse a sorpassare L'Apriglia di Espargarò Ma non è che sia una sfortuna Questa La moto è quella Che ci puoi fare Allora Bezzecchi Che sta facendo un gran mondiale Ma non è una moto Per lottare per il mondiale Che facciamo Bastianini uguale Ragazzi Non diciamo micchiate Quindi secondo me Bagnaia Quella è stato Nell'arco dell'anno Più sfortunata Rispetto a Quartalaro Ieri Quartalaro Non è stato sfortunato Si è ritirato Per colpe sue Quindi smettiamola Di dare addosso a Bagnaia Perché ragazzi Nella testa di un pilota Voi non sapete Quanto casi poi Voi direte Quello guadagna i milioni Non può accettare Due critiche Ok Però ragazzi Non è mai bello Nella testa di un pilota Ritirarsi quattro volte Durante l'anno E ricevere Quegli insulti O comunque Quelle battutine Poco piacevoli Su Instagram Bezzecchi Secondo gran lavoro In generale Del team VR46 Perché erano quattro Care consecutive Che Marini arrivava In top ten Erano comunque Anche quattro Care consecutive Che Marini Era al ritmo Dei primi Addirittura Lo scorso Gran Premio È riuscito a battere Orge Martina Che ha problemi Col braccio Ora non lo sapremo Al cento per cento Quanto può influenzare Quello Nelle prestazioni Di uno dei due candidati Per il posto In Ducati ufficiale Però ragazzi Bezzecchi Ha fatto un gran lavoro Così come il team VR46 Io sono sicuro Che il team VR46 Può battere Il team Grazini Racing Alla fine dell'anno Perché ragazzi In questo momento Pensate che il team Grazini ha solamente Sommando due piloti Quindi Bastianini Di Giannantonio Solamente Nonostante le tre vittorie Di Bastianini 16 punti in più Del team Di VR46 Che in questo momento È anche davanti Alle due Honda È anche davanti Al KTM Tech3 E alla Yamaha With You Di Dovizio E Binder Quindi sicuramente Sta facendo un buon mondiale E sono sicuro Che da qui fino alla fine Può in qualche modo Forse anche pensare Di prendere le KTM Perché ragazzi Alla fine La prima delle VR46 Sono quattro Gran premi consecutivi Che arriva davanti Alla prima delle KTM Quindi Se ieri Marini Non avesse avuto Quel problema All'inizio Con Mir Che gli sfascia l'ala Non ho ancora capito bene Però sicuramente La sua cara è stata influenzata Per arrivare dietro Dovizioso E veramente un peccato Perché Luca Marini Aveva ottenuto Non in Francia Sesto Non in Spagna Scusate Sesto in Francia Sesto in Italia Quinto in Catalogna E ora si vede Questo Questo sedicesimo posto Che sicuramente Non gli fa bene Sarebbe potuto essere Anche ventesimo Senza la caduta Di Quartararo Le cadute Comunque che Generalmente Quelle due o tre Cadute ogni weekend Sono state lì davanti E anche la non partecipazione Di Aleish Di Paul e Spargaro Ragazzi Aprilia Super con Vignales Terzo Sicuramente Vignales Ha migliorato il suo processo Per adattamento alla moto Ma in questo momento L'Aprilia è l'unica squadra Che ha due piloti A combattersi lì davanti Forse l'altra Ci possiamo piazzare La Ducati ufficiale Perché comunque Nel bene o nel male Miller è sempre lì davanti A combattersi Le posizioni La top 5 Cioè ragazzi Miller le gare dove Non si è ritirato Che sono 9 su 11 Di quelle 9 gare Miller 6 su 9 È arrivato in top 6 Quindi ragazzi Capite che comunque È una buona situazione Per Miller Quarto in Indonese Dove lì si è combattuto Per un breve tratto Anche la vittoria Con Oliveira Quinto in Spagna Sesto qui in Olanda Gli altri tre Sopodi Terzo in America Terzo in Germania E secondo in Francia Poi in qui Ci vanno di mezzo Le prestazioni negative In Italia e in Catalogna Quindicesimo e quattroicesimo Però comunque Costantemente Lo vediamo lì Miller E quindi secondo me L'Aprilia ufficiale La Ducati ufficiale Sono i due team candidati Ad arrivare davanti a tutti Anche se in questo momento Addirittura la Ducati ufficiale Ha gli stessi punti Della IEMA ufficiale Anche se praticamente Li ha portati tutti Quartararo E un dato di fatto ragazzi Purtroppo è così È l'Aprilia Che nel mondiale dei team È davanti a tutti Se vediamo il mondiale team Il mondiale costruttore Chiaramente lo vince La Ducati Che ogni Ogni gara C'ha qualcuno Che gli fa o primo o secondo Una cosa veramente Fuori dal mondo Però ragazzi È così Non è fatto di avere 8 moto ragazzi Perché tutte quelle 8 moto Performano bene C'è ragazzi Marini, Bezzecchi, Bastiani Di Gian Antonio Miller, Martin Sono tutti i piloti Che hanno ottenuto O un pole O un podio O una vittoria Quindi insomma A turno arriva qualcuno Lì davanti Purtroppo si mischiano i ruoli Ma ragazzi sono 8 moto competitive La Yamaha ne ha 4 Competitiva Ne ha solo una E la Honda ne ha 4 Competitiva Non ne va manco una L'Aprilia ne ha 2 Vabbè Competitive ne vanno 2 E poi perde per differenze Diciamo di moto Che sono 6 moto in meno Quindi quando si ritira Leish È duro il fatto Anche se ha Leish Finora è l'unico pilota Non essersi mai ritirato Miller secondo me viene Secondo me troppo sottovalutato Fa un buon lavoro Fa anche qualche weekend no Ma tutto sommato Per essere un secondo pilota Sta facendo un ottimo lavoro Quindi non capisco il senso Di sostituirlo Con uno che possa avere Magari le stesse prestazioni Di bagnaia E poi si mettono a litigare Come Che ne so Un bettele Mettere nello stesso team Due galli nel pollaio E quindi Non lo so Suzuki Finalmente torna Con entrambe le vetture Se le vetture Con entrambe le moto In top ten Però un ottavo Uno decimo Entrambi non si ritirano Dopo 6 carri consecutive Dopo almeno uno dei due Che si ritirava Quindi finalmente Esce da questo tunnel Senza fine la Suzuki Però un ottavo Uno decimo Praticamente hanno Mollato praticamente tutto Zarco Bastianini Gostano ragazzi Avevano occasioni Veramente importanti Di recuperare i punti Per il mondiale Bastianini un dicesimo Zarco tredicesimo Ovvero è che la loro moto Non è certo a livelli Della Yamaha di Quartararo Della Ducati di Bagnaglia Però ragazzi Hanno sicuramente Perso una grossissima occasione Per recuperare i punti In particolare Zarco Che anche con un secondo posto Ieri in qualche modo Si sarebbe rimesso in gioco Per il mondiale E invece Ha praticamente Gostato Detto questo ragazzi Il video termina qui Spero che il video Vi sia piaciuto Se ti è piaciuto Il video Lasciate un mi piace Se non trarvi un dislike Commenta se siete d'accordo Se siete d'accordo Se siete d'accordo con me Se l'avete ancora fatto Iscriviti al canale In descrizione Il link Per seguirmi su Instagram Dovano Esporzio Rosette Tutte noi Ci vediamo In un prossimo video Bella ragazzi